Festa di Halloween per i più piccoli a Teramo, un sabato pomeriggio di paura con giochi e sorprese dentro la villa comunale. L'invito a partecipare numerosi è dell'assessorato al welfare del comune di Teramo insieme alle associazioni culturali Teramo Nostra e i ragazzi di Corso San Giorgio. Un evento che intende andare incontro soprattutto alle famiglie più disagiate che potranno far partecipare i propri bambini gratuitamente. Abbiamo visto come in questo periodo la vita sta riprendendo, sta ripartendo, quindi abbiamo pensato perché non sfruttare ancora queste giornate così soleggiate e così belle e organizzare una festa di Halloween per i bambini di Teramo. E quindi da questa idea è partita una corsa veramente velocissima per organizzare il pomeriggio di domani alla villa comunale dalle 17 alle 20 con tutti i bambini di Teramo e soprattutto con tante sorprese. Come si svolgerà questo pomeriggio alla villa comunale? Sì, questo pomeriggio abbiamo allestito la villa a tema e poi avremo dei bellissimi giochi, quindi avremo il trucco a bimbi, le bolle di sapone, lo sputafuoco, tutte cose molto particolari. In più ovviamente per Halloween non possono mancare le famose caramelle per i bimbi, quindi è un invito il mio a partecipare. In più c'è una sorpresa notevole per il finale, ci sarà una visita guidata, culturale al Castello della Monica. La festa di Halloween per i bambini alla villa comunale di Teramo vuole essere un segnale di ripartenza, un modo bello per ricucire una socialità un po' dispersa con la pandemia. È una festività importata, non è il nostro originale come tante altre festività, però il mondo va così, bisogna anche, finché non si fa danno si fa sempre del bene. Cerchiamo di fare socialità perché la cosa che oggi manca di più nella nostra città, ma penso in tutta Italia, in tutto il mondo con questa pandemia, è la mancanza di socialità. Grazie.